Oltre a Trento e Bolzano esistono delle province interamente montane che sono Sondrio e Belluno che devono essere considerate autonome. Ma non mi fermo qui, chiedo anche che nelle competenze che verranno date a queste nuove province autonome ci sia anche la competenza che a noi sta molto a cuore sull'energia e il demanio idrico. Detto in soldoni tornare padroni delle nostre dighe, padroni delle nostre acque, padroni delle nostre risorse.